non ce l'ha fatta nicoletta saracola giovane malata di tumore a seno scoperto quattro anni fa quando aveva 29 anni nicoletta da quel momento con grande coraggio aveva raccontato le cure e la malattia con ironia per aiutare le altre donne colpite dalla stessa malattia era originaria di civitanova nelle marche ed è morta nella giornata di sabato 25 marzo a milano lavorava nella moda e sui social aveva creato una rubrica per dare coraggio e forza alle donne malate come lei